Allora, oltre quel pochino di mangiare, non entro col telefono perché non voglio contaminarlo, già non funziona. Oltre quel pochino di mangiare, quando sono uscita proprio per farvi il video, non ne ha voluto più che sapere. Giusto quel pochino, ma a noi ci basta già il segno. Già siamo contenti di averlo visto che si lava, insomma ho fatto a tutti e tre la flebbo, a lui nella vena per fortuna, che abbiamo la cocanula e quindi la guarigione ora assicurata e a loro sotto cute come tutte le sere e le mattine. Unica cosa, mi sento un pochettino più rincurata perché avevo sottovalutato l'aspetto che può essere una gastrointerita e batterica o anche che abbiano la giardia, pure loro, perché sarà veramente virale. Io le ho viste le gastrointerite virali, non ti danno tempo di un cazzo, muoiono subito. E poi Sonerino che è solo un po' di inappetenza al giorno di San Valentino e poi un po' di Somorgil che gli è passato. Lui giorno 15, quella cacca verde, subito con l'antibiotico, la flebbo è rientrata. Vomito non è mai fatto, ma potrebbe essere batterica veramente non virale perché io non ho nessun gatto con la gastro, a meno che il coronavirus della FIP non sia mutato in coronavirus della gastro e si sa i virus mutano. Anche se io non ho entrato cuccioli in gastro, tutto potrebbe essere. Sono virus e chi cazzo li conosce? Questi creano resistente. Vai a mangiare piccolino, vai. Vai, 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 piccolino, mangiare niente. Speriamo, speriamo bene, speriamo bene.